Il comando ha agito come nei film d'azione americani, con le pistole in mano, con i caschi in testa per non farsi riconoscere e poi con grande determinazione, in pieno giorno, sfidando tutto e tutti, studenti, professori, vigilantes e persino la polizia. I rapinatori sono arrivati in gruppo, tutti assieme, con ognuno un compito specifico. Uno è rimasto a fare il palo, altri, armi in pugno, hanno costretto gli studenti a restare in aula, non uscire e dunque a non chiedere aiuto. Altri ancora si sono diretti, neanche a colpo sicuro, verso la macchinetta mobile del Bancomat del Monte dei Paschi di Siena, che una volta individuata è stata trascinata, non prima di essere letteralmente sradicata dalla piccola nicchia in cui era stata inserita. Poi l'hanno caricata di peso per portarla all'ascensore con il quale raggiungere prima il piano superiore e poi il fuoristrada, che avrebbe permesso loro di fuggire indisturbati. Eccoli sei degli otto rapinatori che sabato hanno agito nella sede della facoltà di giurisprudenza di Catania Villa Cerami. Sono uomini di età compresa fra i 30 e i 60 anni, tutti pregiudicati per reati specifici legati alle rapine. Salvatore Di Stefano, Vincenzo Lizio, Salvatore Burgio, Gaetano Grillo, Carmelo Ragonese e Giuseppe Munzone. Due o forse tre loro complici sabato sono riusciti a fuggire, ma hanno la squadra mobile e le calcagne e presto potrebbero finire in carcere. Sabato a giurisprudenza scena da far west con gli uomini dell'antirapina della squadra mobile costretti a sparare alle gomme del furgone per evitare la fuga, sguinzagliati per i corridoi dell'università a caccia dei banditi che hanno agito consapevoli che dentro quella macchinetta Bancomat vi fosse poco denaro, appena 5.000 euro. Individuato il palo in Vincenzo Lizio che aveva anche compiuto un sopralluogo nei giorni precedenti per studiare il colpo. Il 14 maggio un altro commando era entrato in azione in un'altra facoltà, quella di lettere che ha sede nel monastero dei Benedettini. Anche in quell'occasione i banditi non riuscirono a portare via il denaro.